Carrozzina d'Amaro è un progetto voluto dall'Aggiunta Comunale nell'ambito di Aiutiamo Chi Aiutiamo, un progetto che vede l'Aggiunta destinare una parte delle proprie indennità ogni mese a progetti sociali, soprattutto ad associazioni che a loro volta aiutano altre persone, soggetti deboli o comunque si occupano di progetti nell'ambito del sociale. Nello specifico abbiamo reso partecire tre soggetti, tre associazioni, il PROS, Dimensione Volontario e l'AISM. Il progetto prevede la messa a disposizione, quindi l'acquisto da parte nostra di una carrozzina adibita per disabili per accedere sulla battiglia e arrivare fino all'acqua. Ovviamente auspichiamo che questo sia solo un primo passo, questo nostro primo segnale possa essere poi importante per i balneatori affinché ognuno sulla propria battiglia, nel proprio stabilimento, possa nel tempo essere dotato di una carrozzina di questo genere.